è una corsa che la fai tutta in un fiato però ci sono dei punti cruciali dove comincia il pavè tu lo vedi subito perché comincia a aumentare perché i francesi e i belgi lo sanno dove sono io per i miei anni non conoscevo neanche le strade e lì la datura aumenta al massimo perché tutti vogliono entrare nel pavè davanti non bisogna avere paura tu devi entrare c'è possibile davanti in terza quarta posizione entrare a tutta e lì devi cercare di eliminare gli avversari il gioco è quello non è che puoi di aspettare lì no attraverso Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.